Buonasera da Marco Capugli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Dopo l'ennesima strage sul lavoro di ieri a Firenze sul cantiere per la nuova Esselunga, i sindacati lanciano l'appello, basta con i morti sul lavoro. La CISL Aretina sottolinea l'importanza della gestione degli appalti dei cantieri. Grazie Settimelli. Possibilmente dovremmo rientrare a fare corsi di formazione frontali, non solo tramite videoterminale, perché non è una perdita di tempo. La formazione davvero diventa un momento essenziale di confronto con i datori di lavoro e con i lavoratori. Quindi va ripresa la formazione e ripensata come investimento per ogni singolo datore di lavoro. Dalla prevenzione e formazione, che deve diventare sempre meno generica e sempre più specifica ai controlli. Purtroppo però in questo caso i controlli spesso non sono di quelli casuali dentro i cantieri, vengono programmati e nella programmazione dei controlli si sa che tutta una serie specifica di persone sanno quando arriveranno. Il tema che necessita di un approfondimento più importante, portato all'attenzione delle cronache dalla tragedia sul lavoro di Firenze, è indubbiamente quello degli appalti. Il tema degli appalti è sempre fatto e sempre ritenuto in considerazione purtroppo a una semplificazione, il che non è sicuramente un elemento da sottovalutare, ma semplificazione non vuol dire deregolarizzazione, cioè mancanza di regole che possano in qualche modo verificare la filiera degli appalti. Dopo un primo comunicato congiunto da parte dei sindacati confederali a retini e due ore di sciopero, è il momento di ripensare al contributo di tutti affinché non si debba ancora morire di lavoro. Non si può pensare che in questo scaricabarire che in questo periodo c'è tra le varie forze politiche, in particolare tra il governo e la nostra regione, che sappiamo solo di differenti posizioni e ideologia, non è possibile fare sempre scaricabarire. In questo caso la regione si deve fare parte attiva perché rispetto al lavoro e ai cantieri e gli appalti che ci sono nel territorio ha delle possibilità di controllo perché per questo c'è anche la regione. Credo che forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali, facendo partecipare di più i nostri rappresentanti dei vari settori e dico di più anche nel nostro territorio insieme con il Perfetto c'è la possibilità di organizzare anche modalità, di mettere insieme le competenze specifiche e di utilizzare le organizzazioni sindacali che sono un sensore importante per quello che succede nel territorio. Anche nel nostro territorio ci sono delle difficoltà, dei problemi. Abbiamo visto che ci sono sacche di lavoro nero enormi e in queste sacche di lavoro nero si annida purtroppo anche la mancanza di prevenzione e l'occasione perché avvengano infortuni sul lavoro difficili da prevenire in questo caso. Incidente, questa mattina intorno alle 8 e un quarto in via Anconetana d'Arezzo, uno scooter e un'auto sono venute a collisione, un minorenne è rimasto coinvolto e ferito nell'urto ed è stato portato all'ospedale San Donato in codice giallo illeso, l'automobilista sul posto, la Croce Bianca di Arezzo e le Forze dell'Ordine per i rilievi di legge. Ancora una truffa ad un'anziana, questa volta degenerata in rapina, quando la vittima ha iniziato ad avere sospetti sulla frode. I fatti sono accaduti nel quartiere di Saione ad Arezzo. Chiara Sodotti. È stata strattonata, poi gettata a terra, per sottrarle oro e denaro. Vittima della rapina, un'anziana signora. È successo ad Arezzo, in via Tanaro, traversa di via Tagliamento. Tutto è partito dalla truffa del finto carabiniere, ma quando la vittima ha iniziato a sospettare della frode, tutto è degenerato. Ormai più che noto il canovaccio, il truffatore citofona la vittima qualificandosi come ufficiale dei carabinieri. Poi l'annuncio dell'incidente stradale causato dal figlio, in questo caso con una bambina rimasta gravemente ferita. Ed infine la solita richiesta di denaro o preziosi come cauzione. L'ottantenne all'armata ha raccolto oro e contanti, ma ha superato lo shock iniziale e ha chiesto al sedicente carabiniere di mostrarle un documento. A questo punto il bandito, vistosi scoperto, l'ha colpita buttandola a terra e strappandola ai preziosi che la donna aveva racimolato per darsi alla fuga. Sull'episodio una truffa aggravata, degenerata in rapina, sta indagando la polizia di Stato. Non sarebbe l'unico caso avvenuto in zona. Ad Arezzo e provincia le truffe, i danni di anziani, tra tentate e consumate nelle ultime settimane, infatti si sono moltiplicate. E questa notte i carabinieri di Foiano della Chiana hanno arrestato in fragranza di reato poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine. I militari dopo aver eseguito un servizio di osservazione e pedinamento hanno notato un movimento strano di persone che si avvicinavano al sospettato e si allontanavano in fretta dopo un fugace incontro. A questo punto i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale a carico dell'uomo all'esito della quale hanno rinvenuto e posto sotto sequesto 70,837 grammi di cocaina, due involucri contenenti 1,28 grammi di cocaina, un barattolo con all'interno 70,4 grammi di cocaina, 65,62 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed inoltre sono stati segnalati all'autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti due persone, un cittadino italiano quarantenne che aveva acquistato due involucri contenenti mezzo grammo di cocaina ed un cinquantenne di origini marocchine trovato in possesso della stessa quantità di droga. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Arezzo in attesa dell'udienza di convalida. Questa mattina presso la sede della Croce Bianca di Arezzo sono stati consegnati dei materassi per i volontari nottambuli che durante appunto il servizio notturno garantiscono i servizi di emergenza alla cittadinanza gesto e frutto di una donazione da parte di Orchidea Preziosi e di Enzo Scartoni e di Dormi da Re. La cerimonia di consegna è avvenuta appunto in città alla presenza del presidente di Croce Bianca, Urbano Dini. Sentiamo. Sì dai, sono dei materassi in memory quindi anche se ci dormono poco, quando dormono riposano bene. Sono pronti per dare una mano alla collettività? Sì, è sempre un bene fare queste cose. Sette materassi nuovi di Zecca per consentire un riposo come si deve a chi nel turno di notte garantisce la copertura di un servizio quello dell'emergenza a urgenza fondamentale per tutta la comunità. Siamo alla Croce Bianca di Arezzo che ha ricevuto nelle scorse ore questa donazione da parte di Orchidea Preziosi, Enzo Scartoni e di Dormi da Re, Nico Pericchi. Ci sono delle azioni come quella di stamani che potrebbero sembrare dei piccoli gesti in realtà sono quei gesti per noi molto importanti se non altro perché l'affermazione che noi facciamo un lavoro a servizio, un'attività a servizio della comunità che viene apprezzata appunto anche con questi gesti. Abbiamo deciso di fare questa donazione che per me la ritengo molto importante che poi anche ora ho notato che c'è sempre di meno gente che fa volontariato per la Croce Bianca oppure anche gli altri. È stata anche l'occasione dopo il rinnovo dell'organigramma per la Croce Bianca di Arezzo di ricordare l'importanza della vicinanza della città in termini soprattutto di volontari per la Croce Bianca e tutte le associazioni di pubblica assistenza. Ad oggi sono 70 e volontari in forza all'associazione ne servirebbero quasi il doppio, dice il presidente Urbano Dini. Vorrei ricordare alla cittadinanza che quando si compone il 112 è da qui che parte l'ambulanza. Sì, dopo la stagione del Covid abbiamo avuto una perdita importante di volontari ed è sempre più difficile trovare delle persone che si avvicinano a noi. Credo che bisogna fare più comunicazione soprattutto tra i giovani, dare la possibilità di una formazione attenta e quindi di coinvolgimento in questa attività a servizio degli altri. Allora insomma far uscire anche queste belle storie che spesso e volentieri ci avete permesso di raccontare con i vostri volontari. Sì, questo sì. Io ho 30 anni che faccio il volontario presso questa associazione e faccio un ringraziamento a Enzo che è sempre vicino perché non posso dire niente. Ma con questo gesto spero che si avvicini anche altri imprenditori che ci diano una mano nella comunità perché è importante. Il posto di storia economica, il costituente ministro oltre che capo del governo e infine c'è l'artista, ovvero la parte più sconosciuta di Amintore Fanfani. C'è tutto questo nella mostra dedicata a una delle figure più significative del Novecento italiano, l'esposizione dal titolo Amintore Fanfani, pittore, che è stata inaugurata nel Museo Civico di San Sepolcro a 25 anni dalla sua scomparsa. Il servizio. La domanda che ci dovremmo fare è ma se Amintore Fanfani non fosse diventato quel Fanfani politico che tutti hanno conosciuto in Italia e all'estero, come pittore quanto sarebbe stato importante? Avrebbe potuto varcare i confini della notorietà? Io da figlio dico di sì. C'è lo studioso di storia economica, il costituente, il ministro e capo del governo ed infine c'è l'artista, la parte forse meno conosciuta di Amintore Fanfani. Tutto questo è nella mostra dedicata ad una delle figure più significative del Novecento italiano. Lui ci dedicava all'anima. La sera, anche quando tornava dopo Palazzo Chigi, dopo i ministeri, all'ONU nel 65, lui dedicava ore e ore e ore alla pittura, che era il suo vero grande amore. L'esposizione, dal titolo Amintore Fanfani pittore, è stata inaugurata al Museo Civico di Sansepolcro a 25 anni dalla sua scomparsa. Grazie alla concessione, al prestito di un collezionista importante, Silvestri, ma anche della famiglia Fanfani, celebrare i 25 anni della morte, intelligentemente curandosi dell'attività artistica, vuol dire conoscere degli aspetti che forse vengono fuori anche nell'altra frontiera della sua vita, ma che qui vengono emblemati con immagini importanti, nelle quali la spiritualità di Fanfani emerge con tutta la sua forza, passando dalle prime opere, quindi dallo stile figurativo, allo stile astratto informale delle ultime. È stata fatta una selezione e soprattutto la mostra si articola in sezioni tematiche, quindi non cronologiche, tanto le didascalie indicano la data, ma soprattutto i temi, quindi nature morte, le madonne, le teste. Esce a una parete divertentissima, preceduta proprio da una sua foto, nell'atto in cui, mentre appunto stavano decidendo per la Costituzione, faceva caricature molto spontanee di tutti i presenti, di tutti i grandi personaggi che hanno fatto la nostra storia della Repubblica Italiana. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 17 marzo. Verrà poi reiterata probabilmente in Senato, probabilmente nel mese di giugno, su proposta del senatore Pierferdinando Casini, il quale sta seguendo e ci sta dando una grossa mano nell'organizzazione di tutti questi eventi. Ferrero Vannetti è stato eletto per acclamazione presidente di Confartigianato Imprese Toscana dall'Assemblea della Federazione, che riunisce le 10 associazioni provinciali che in Toscana aderiscono a Confartigianato Imprese e che rappresentano 30.000 imprese con più di 100.000 addetti. Il presidente guiderà la federazione nel triennio 2024-2027, affiancato dai vicepresidenti Giovanni Lamioni, Alessandro Corrieri, Michela Fucile e Serena Vavolo. Ferrero Vannetti è anche presidente del Consiglio di Amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi, è membro della Giunta della Camera di Commercio di Arezzo Siena ed è amministratore unico di Arezzo e Sviluppo. è stato anche presidente di Artigian Cassa e di Confartigianato Imprese Arezzo. E cambiamo decisamente argomento perché oggi, 17 febbraio, ci celebra la Festa Nazionale del Gatto. Dall'EMPA arriva l'appello, vorremmo ricordare l'importanza della sterilizzazione e dell'utilizzo dei microchip per i gatti. Chiara Sadotti. Tra le creature più affascinanti e misteriose, piccoli felini capaci di rubare il cuore dei loro umani e di essere a pieno titolo membri della famiglia. Ovviamente stiamo parlando dei gatti ed oggi, 17 febbraio, si celebra in Italia la loro festa nazionale. Nata nel 1990 come giornata di sensibilizzazione per promuovere l'adozione responsabile dei felini, la data è legata a diverse caratteristiche dei gatti. Alcune di queste hanno a che fare con luoghi comuni e proverbi, altre con credenze antiche. In questo giorno, EMPA vuol ricordare l'importanza della sterilizzazione e dell'utilizzo del microchip. È su base volontaria al momento. Comunque è possibile microchippare anche il proprio gatto di proprietà dal veterinario e farlo inserire nella banca dati. La microchippatura è fondamentale, come lo è per i cani. E in questi anni ci ha aiutato veramente tantissimo a recuperare tanti proprietari, quindi a ridurre il randagismo. Ora veramente direi che la piaga e la parte critica del randagismo la ricopre al 100% il gatto. La microchippatura consente appunto la possibilità di recuperare il nome del proprietario. La sterilizzazione è altrettanto importante. Devo dire che qui ad Arezzo, io sto parlando per Arezzo, abbiamo creato un'ottima sinergia. La stanza d'agenza creata dal comune di Arezzo, l'assessore Carlettini in primis che l'ha voluta, sta veramente entrando dopo due anni e mezzo, è entrata a pieno regime. L'ASL dall'altra parte ci sta ben seguendo con le sterilizzazioni e siamo circa a 250 sterilizzazioni annue. Quindi direi un giro importantissimo. Proprio in questa giornata speciale per i mici, un gatto che era stato perso a Terontola ai primi di dicembre e recuperato qualche settimana dopo dai volontari dell'EMPA Pescaiola, grazie ad un annuncio su Facebook, ha ritrovato la sua famiglia. Sono venuti Baki a riabbracciarlo e chiaramente se lo sono riportati a casa. Rimaniamo dalla parte degli animali perché torna nel rettino l'operazione Buffo Buffo per salvare i rospi dal ciglio della strada. Sentiamo. Febbraio, il mese dell'amore ma anche dell'accoppiamento dei rospi che però per arrivare a laghi ristegni d'acqua rischiano di essere investiti dalle auto. Ad Arezzo è così ripartita l'operazione Buffo Buffo per il dodicesimo anno consecutivo. Noi salviamo rospi perché ovviamente ci interessa salvare gli animali. Però è chiaro che ci sono anche dei motivi legati all'ecosistema. Il rospo è un animale protetto. Armati di guanti, torce, secchi, squadre di volontari tolgono i rospi dalle strade per portarli vicino all'acqua dove possono deporre le uova per poi fecondarle. Ovviamente utilizziamo tutti gli accorgimenti possibili giubbotti catarifrangenti, torce e molta molta attenzione perché appunto nel salvare questi animali occorre comunque una certa dose di prudenza. Temperatura sotto i 7 gradi, molto umido e meglio ancora se piove queste le condizioni ottimali per la migrazione di primavera. È un incontro vero e proprio di rospi femmine con rospi maschi. La migrazione del rospo bufo bufo è tanto spettacolare quanto pericolosa per gli stessi anfibi. La femmina si incammina verso il lago per andare a deporre perché in questa stagione comunque ha le uova nelle due sacche laterali e il rospo maschio l'aspetta. Spesso però l'aspetta in un luogo in fausto che è la strada che è sempre dietro di noi. Questo perché? Perché è più facile essere visti. La manovra è molto semplice perché non si tratta nient'altro che prendere il rospo e metterlo in un secchio. Stiamo molto attenti a dividere i maschi dalle femmine e dalle coppie. E poi cosa facciamo? Poi li portiamo al laghetto e li liberiamo. Grazie al comune di Arezzo sono stati anche sistemati dei cartelli che invitano gli automobilisti a procedere con cautela. Guidare con prudenza, che comunque è sempre una buona norma, permette di salvare tantissimi animali. Adesso si cercano altri volontari. È una campagna aperta a tutti quelli che vogliono venire a dare una mano. Facciamo un corso di formazione. La cosa che noi chiediamo è di inviare una mail, una candidatura operazione bufobufo at gmail.com Nonostante sia passato martedì grasso il cosiddetto ultimo di carnevale, e ancora tempo di festa in maschera nella Retino. Domani appuntamento a Rigotino e a Fogliano della Chiana. Vediamo. Tutto pronto per un nuovo weekend di festa per la 485esima edizione del Carnevale di Fogliano della Chiana che continua a far segnare il record di presenze. Domenica 18 febbraio, la quarta uscita dei corsi mascherati nel borgo della Val di Chiana, dopo le prime domeniche in cui la giuria ha votato prima il carro più bello, poi la mascherata migliore. Il verdetto è già scritto e deciso, ma resterà top secret chiuso in cassaforte fino all'ultima domenica di carnevale, in programma il prossimo 25 febbraio, quando verrà data lettura del testamento di Reggio Condo che svelerà il vincitore tra i quattro massodontici carri allegorici realizzati da altrettanti cantieri. Sempre domenica 18 febbraio, ultima uscita per il carnevale dei bambini di Rigotino, che recupera l'appuntamento di domenica scorsa annullato a causa maltempo. Dalle 15 in poi, nella frazione, alle porte di Arezzo, sfilate di carri allegorici, musica, spettacoli ed ovviamente coriandoli. Conosci, possiedi, trasforma. E questo è il titolo di un appuntamento a partecipazione gratuita e aperta a tutti promosso dall'Associazione Arezzo Psicosintesi, un incontro per conoscere la via e da perseguire per la crescita personale e la scoperta di sé. L'appuntamento è fissato per le 21 di martedì prossimo 20 febbraio allo spazio seme di via del Pantano ad Arezzo e fornirà un'occasione per vivere una prima introduzione ad un metodo che offre stimoli e strumenti volti a realizzare le proprie potenzialità attraverso una corretta relazione con l'io, con gli altri e con il mondo. A parlarne sarà il filosofo Marco Montanari che accompagnerà in una prima visione della psicosintesi e dei suoi campi di applicazione, guidando i presenti in un percorso di educazione, autoformazione, sviluppo della persona in tutte le sue facoltà e armonizzazione dei rapporti interpersonali secondo la visione psicologica ideata da Roberto Assagioni. E andiamo alla pagina sportiva con due appuntamenti importanti del calcio sia maschile che femminile. Cominciamo con la serie C maschile. Dopo la buona prestazione di Cesena, che purtroppo è terminata con la sconfitta degli Amarato, indiani prepara la partita contro la Re Canatese. Imperativo è vincere. Sentiamo le parole del tecnico Amaranto alla vigilia di questo match. Sì, è una partita da vincere. È una partita che noi dobbiamo fare di tutto per vincere. È chiaro, è completamente diversa rispetto alla ultima perché Cesena, ecco, Montpari potremmo essere strauntenti domani. Bisogna vedere come andrà la gara, però prima nella vigilia con Montpari sicuramente non sarebbe contento. Sì, giusto. Sono completamente d'accordo. Anche perché la squadra, se ripensiamo tutto il cammino fino ad ora, avrà sbagliato due o tre partite dall'inizio dell'anno, non di più. Sicché è chiaro che ultimamente, nemmeno quelle, perché abbiamo fatto molte prestazioni veramente bellissime, ci sono tutti i presupposti per poter farla nostra alla gara, anche se sappiamo che a questo livello le Nensidie sono sempre dietro l'angolo. Guarda per l'ennesima volta, che oggi, domani, troviamo una squadra con il cambio allenatore, un nuovo estivo, un nuovo modo di, chi lo sa, di giocare, come ci è successo a Volvia. Speriamo che non si verifichi la stessa situazione. A distanza di un girone, scappo a volta attualmente la situazione. Allora il Reganati sembrava sulla resta del Londra, non so quanti punti aveva più di noi, ma certamente 4-5 minimo, se non di più, a distanza di un girone la situazione non è completamente apovolta. Direi che noi siamo stati bravi anche da questo punto di vista. Abbiamo passato i periodi più brutti, più belli, però globalmente abbiamo raggiunto una certa linearità. Adesso è un periodo sì, l'attaccante, per l'entese, l'Euvanda non è disponibile, perché ovvio, martedì una, una subelustazione alla viglia che abbia stato un milagro alla distanza di 5 giorni che si è stato disponibile. L'attaccante è così, l'attaccante magari una ne fa 3 a fila in 3 partite. L'importante è che stia bene. Passato un periodo, ecco, magari dai punti di vista fisico, forse aveva bisogno di riposare un po', però non potevamo. Speriamo che ce la faccia domenica, dai. dicevamo quindi obiettivo è la vittoria, l'Erezzo non conquista i tre punti da ben 5 turni e da quando espugnò Carrara per 3 a 2 dopo quel colpaccio ci sono state le sconfitte contro il Pescara in casa e contro l'Olvia in trasferta, poi due pareggi con Entella e Pontedera e in ultimo la sconfitta recente contro il Cesena. L'Arezzo ha segnato solo due gol in 450 minuti, Indiani Dovani tenterà sicuramente il 4-2-3-1 in avanti le scelte sono molteplici per affiancare l'attaccante Gucci, sicuramente Pattarello sarà tra questi affiancato da Guccione e Gaddini. L'area canatese invece ha cambiato allenatore quindi è in fibrillazione, è un periodo abbastanza buio per la squadra marchigiana quindi Filippi ha rimpiazzato Pagliari per dare uno scossone a questo gruppo dove 9 sconfitte nelle ultime 10 partite giocate fino alla caduta alla terz'ultima posizione in classifica il nuovo tecnico probabilmente opterà per il modulo 3-5-2 e andiamo al calcio femminile c'è la Lazio una delle principali protagoniste del campionato di serie B di calcio e quindi andiamo a vedere che cosa ha detto mister Heracleus alla vigilia di questo incontro la società il presidente ha fatto questo ha cominciato nel femminile per arrivare a questo livello per esempio per fare la promozione della C per vincere il campione per arrivare alla B per giocare contro questi avversari per metterci alla prova per essere competitivi contro una delle forti squadre anche come società come nome come storia come la Lazio quindi noi siamo contenti di questa sfida è una sfida per noi e siamo in questo campionato per essere più competitivi possibile contro questi tipi di squadre sempre si cambia anche quando abbiamo fatto questi cinque risultati di fila abbiamo sempre cambiato qualcosa perché devi anche affrontare ogni avversario ogni gara come una come una sfida completamente diversa delle altre e devi devi dare un po' di rispetto a ogni avversario quindi sì noi abbiamo studiato bene la Lazio giocano in un in un modo meritano di essere di essere lì con la Ternana nelle primi di classifica sì cambiamo piccole qualche piccole cose anche vediamo se possiamo ricoperare qualche ragazza dei piccoli infortuni le botte che abbiamo preso però sì vediamo quindi appuntamento alle 14 e 30 domani per questa diciottesima di campionato allo stadio Mirco Fersini di Formello in provincia di Roma le convocate saranno tra i pali Olser e Nardi in difesa Blasoni Fortunati Lorieri Minciotti Per Arnau Turney Tuteri a centrocampo Asgeidottir e Cagnina imprezzabile Liccio Paganini e Parra ed infine in avanti Carcassi Diaz Gnischi Miotto Nocchi e Razzolini bene questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV iscriviti